Sono oltre 10.000 i fondi già raccolti per il progetto La Pizza Buona Dentro e Fuori, promosso dalla Fondazione Casa Amica in collaborazione con la Casa Circondariale di Forni. All'interno del carcere è stato individuato un locale che ospiterà una pizzeria dove lavoreranno i detenuti dopo aver imparato attraverso un corso a fare pizze. I fondi servono ad adeguare i locali a mettere in piedi una vera e propria cooperativa. Dopo la prima serata e i primi fondi raccolti, oltre 10.000, oggi in una conferenza stampa sono state presentate le nuove serate del calendario che, ospitato in 10 pizzerie salernitane, consentirà di devolvere altro ricavato utile a promuovere e a finanziare l'iniziativa. Lo scopo è quello di rieducare le persone e soprattutto dargli delle competenze che poi possono spendere una volta fuori nella vita normale. La Fondazione di Comunità è stata da subito d'accordo a condividere il progetto che veniva presentato dalla Fondazione Casa Amica e dalla Casa Circondariale e tutto il Consiglio della Fondazione lo ha sposato, per cui siamo tutti compatti a sostenere questa iniziativa. Credo tanto che questo progetto abbia il giusto riscontro e soprattutto la giusta prosecuzione, perché per quanto mi riguarda io credo molto alla gestione in forma privata della cosa pubblica, nel senso che bisogna effettivamente avere una mentalità imprenditoriale per poter portare avanti iniziative del genere che altrimenti poi rischiano invece di essere chiuse ed essenzialmente autoreferenziate. Mettere insieme realtà del non profit, enti pubblici, in questo caso enti privati come le pizzerie che ci stanno sostenendo è una bella sperimentazione che credo che darà bei frutti anche come messaggio di sensibilizzazione. La società civile può fare molto nei progetti di inclusione sociale, ne abbiamo bisogno, il momento è delicato e quindi veramente sento di ringraziare tutti i partner di questa iniziativa che spero sia il primo passo verso una lunga collaborazione con la Casa Circondariale.